ragazzi benvenuti a questo nuovo video, io sono Ernesto Gamer, con noi c'è? ehm... Vincenzo... dai fai... vabbè come al solito... Maurizio Costanzo, con noi c'è Maurizio Costanzo eh come no, non è vero ragazzi, con noi c'è? Samuele Gamer 221 io sono bloccato la sua, ragazzi non ci siamo solo eh ragazzi vi volevo dire che io e Samuele abbiamo solo due accanto, quello sul tablet, quello e sul computer oh ma ci stai salire io non sto usando quello sul tablet e quello sul computer, perché il computer più ci si è rotto eh vabbè, scasi disperati ok Samu vieni, vieni shop questo gioco lo potete comprare cioè lo potete come sono sopravvissuto ahia Samu ma se... allora io vado a comprare una bella droga anche se non è... è una coca raga, ditevi di me se il buono lo scrivesse ehm... io è più... ma tu vuole più bella scrivere la mia o quella di Hermes e voi non mi diranno la mia, perché tu hai solo una macchina anche ma che significa? eh... no, no, non scrive... ragazzi, eh... ragazzi non scrivete niente perché... se no metto l'hashtag arrestati no, e metti l'amore, tanto loro... ehm... io decido... ah... ah... no, il canale è mio pooo... tan daaa... ragazzi, devo far vedere una cosa che mi dica mi dica mi dica mi ha fatto esplorare ragazzi, dovete guardare la vita e... e... si, però, sti gran cavoli Samu, dopo giochiamo a... come si chiama? quello slenderman hobby si? hm? no... eh... ah... dietro, 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 faccio vedere guardate qua ragazzi, guardate io mi faccio... guardate se lo faccio... eh, raga, guardate se lo faccio... cazzo dove è andato? a un posto! heheheheh Samu, io... io bevo sta cosa e stranamente mi da la velocità wooo sarò più veloce di tutti madonna ragazzi, ma che schifo di skin c'ha questo... sto sin... io metto in prima persona, è più figo e poi è una blocks oh, raga oh mortacci sua raga, me ne devo comprare doppie perchè sono troppe buone ragazzi quanti sono io? vuoi dire punti? scendi dallo sch... oddio no, stavo perso ho la gravità ho la gravità ho la gravità ho la gravità come hai fatto ad avere la gravità? ah, sì, quel coso là che ti dà guarda quanti soldi ho ragazzi, mi sto... mi sto mangiando il Krabby Patty benissimo oh, te lo vuoi mangiare tutto intero? oddio oddio ragazzi, sono salito su un tetto oddio che cos'è questa cosa bruttissima oddio che cos'è questa cosa bruttissima eeeh oddio gli occhi, oddio gli occhi io meglio se salgo qua sopra c'è una scritta l'ultimo scritto morto a terra bravo il nome è Ernesto andava ragazzi che parkour oddio che cos'è questa cosa il lag il lag più totale e io ho pure la velocità eeeh io ho il lag totale anche io ho la anche io ho la cosa la cosa della velocità e adesso mi compro oh Erne, vieni Erne Erne dove sei? ti voglio dare questo guarda sono sopravvissuto piglia Erne piglia ma dove dove sta? ecco ti no lo skateboard non lo prenderò vabbè tanto io mi adagio guardate qua che cosa so fare con lo skate cadere per terra aspetta 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 ma provo ma provo a bermi una cosa oh oh qualcuno mi faccia morire guardate la cosa è guardate la cosa è che piccacchi ragazzi la cosa è la cosa qui oddio oddio è la mia ragazzi dite meglio con me se non è scemo oh ragazzi come faccio? ci vuole la cosa della gravità oddio come mi sono salvato come mi sono salvato oddio che cosa sta succedendo ecco adesso sono una trottola sono una trottola personale guardate qua come giro oh un angry bird sta andando a fuoco oh un angry bird sta andando a fuoco siamo qua ragazzi siamo entrati nel land oddio che cos'è? no lo squalo 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 no bravo bravo oh bravo marina il fondale marina bravo bravo io bevo un pochino di questo salsa piccante uuuu ah ah io sto io sto così no no bello bello no io sono morto no io sono morto oh sentire la canzone è epica bello bello io devo un cappino alto bravo oh ragazzi si ragazzi sono sopravvissuto otto volte quindi mettete un bel spalangate di questo video che cos'è quella roba? no flash food flash food aiuto cammino come un pazzo raga sto rivolchiando hai bella gnocca ragazzi come ho fatto a sopravvivere ah ah no Justin Bieber no Justin Bieber no aiuto aiuto ah ah perché non voglio il tuo etrografo madonna quanto è brutto poi no 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 aiuto e vabbè non voglio non voglio Justin Justin ho detto che no Justin avrei detto non voglio il tuo cazzo di artografo ok adesso mi comprerei mi comprerei mi comprerei è Ernesto è Ernesto è Ernesto ragazzi se questo video vi è piaciuto commentate qua sotto iscriviti al canale e bella uccelli bella raga